E' stato presentato presso la sede dell'Ordine degli Psicologi della Campania il libro di Teresa Manes, Andrea, oltre il pantalone rosa, edito da Graus Editore. Una sorta di diario della madre di Andrea che il 20 novembre del 2012 si tolse la vita perché vittima di un bullismo omofobo. E' passato un anno, un anno senza Andrea, e in un libro la madre cerca di raccontare la sua verità. Tante le domande senza risposta, e così Teresa ha deciso che tutto quel dolore doveva servire a qualcosa, come spiega ai nostri microfoni. Ci sono tantissimi Andrea che soffrono in silenzio, ed è bene che invece tirano fuori questo disagio che vivono dentro e che lo manifestino, perché se tenuto dentro gli uccide e basta. Grazie. 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 Grazie.